La tua gesta di oggi, magari la puoi invitare tu, nei tuoi. Otto, spinta da un istinto di coraggio e di grande intraprendenza, di fame e di bossoli, ha accettato una scommessa grottesca per me e Clayton su chi avrebbe dato uno scappellotto a Eleven. L'ha fatto, lui, lui, è un uomo. Com'è andata? Che senso? Eleven è uccidata. Sì, è schizzato dappertutto. La voglio nei bimbelli, lo voglio, mi voglio. Adesso, Kurt, dimmi. Questa opera di prima intelligente, secondo me, c'è Malena che vuole fare il percorso delle scuole. Malena, cosa ne pensi? Perché è un uomo, c'è? Cosa? Hai detto questo? A me l'ha detto. Ma come ha fatto? Come fa? Non parla. Così è facile. Collegano le tempie con un cavo elettrico, secondo me. Se uno annuisce quando qualcuno gli fa la domanda. Io non ho mai visto Eleven così, è cambiato. Cioè, come è sempre, però, io tu ho avuto. Io pensavo, pensavo, ho vinto da un istituzione, da loro, ok. Vieni, non ho responsabilità. Io ho solo visto Eleven che ho iniziato a estrarre armi vere e sembrava non volersi fermare mai. Vai!